Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina. In questo video ci dedichiamo alle impostazioni del browser. Abbiamo iniziato nei video precedenti a capire cos'è il browser, ovvero il programma che ci permette di navigare in internet, e abbiamo visto che ne posso installare diversi, quindi diversi programmi browser possono essere installati nel nostro computer, e abbiamo visto che questi browser possono essere personalizzati a piacere per un uso più confortevole. Oggi personalizziamo a piacere Microsoft Edge, il browser già installato nel nostro computer con Windows, e vediamo come fare alcune personalizzazioni. Quindi io ho riportato all'origine il mio browser, quindi alle impostazioni di fabbrica, tra virgolette, e adesso insieme a Terry facciamo il percorso per un'impostazione personalizzata. Quindi vado ad aprire Microsoft Edge, eccolo qua, si apre in questo modo, mi chiede di accettare i cookie e quant'altro, accetto i cookie, eccomi, devo dire che nell'impostazione predefinita non mi ha cancellato i preferiti, la barra dei preferiti, ma vabbè pazienza, la gestiremo in un secondo momento. Allora, innanzitutto, cosa posso impostare? Beh, mi vengono in mente tre cose. La pagina iniziale, la home page, quindi la pagina casetta, e eventualmente l'autenticazione al server Microsoft, in questo caso, visto che Edge è Microsoft, per avere una sincronizzazione di tutte le impostazioni sui miei dispositivi diversi. Allora, cominciamo con la pagina iniziale, che è la prima cosa che voglio fare. Ah, teniamo presente che se io ho già altri dispositivi, quindi altri computer, su cui utilizzo Microsoft Edge con sincronizzazione attiva, e me ne accorgo da qui, in questo caso io non ho la sincronizzazione attiva, perché qui non c'è nessun simbolo, nessuna immagine, potrei fare questa sincronizzazione con il mio account asmaggiolinaoutlook.it, che è quello che utilizzo per l'uso del mio computer. Ma dato che io non ho altri computer con lo stesso account, non voglio, non posso, tra virgolette, sincronizzare altri computer con questo. Questo è da solo, e quindi è l'unico computer che utilizzo con Microsoft, e quindi mi è inutile fare la sincronizzazione. Se io ne avessi già uno, già tutto a posto, potrei sincronizzarlo e trovarmi le cose a posto anche qui. Allora, comunque, pagina iniziale. La pagina iniziale, questa non mi piace, ne voglio scegliere un'altra. Quindi vado sulla pagina iniziale che mi interessa, quindi vado qui, e la pagina iniziale che interessa a me, come a molti, è Google. Quindi www.google.it, e vabbè, accedo oppure accetto tutto. Vabbè, qui potrei dire accedi per accedere col mio account Google, ma non voglio. Accetto tutto per i cookie, per quant'altro, ed eccomi qua. Questa è la pagina di Google. Voglio che sia anche la pagina iniziale del mio browser. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'apertura del mio browser io voglio essere qui, cosa che al momento non succede. Chiudo il browser, apro Microsoft Edge e mi apre la nuova scheda Microsoft con un'immagine, probabilmente a caso, un'immagine diversa tutte le volte, ed è questa. Non mi piace, abbiamo detto, quindi www.google.it, così raggiungo la pagina che vorrei come pagina iniziale. Diamo un attimo di tempo al mio computer di raggiungere questa pagina. Forza computer, o per meglio dire, forza linea telefonica. Benissimo. Poi tre pallini per raggiungere le impostazioni, qui in basso a sinistra c'è impostazioni e vado a scegliere adesso diciamo la mia pagina iniziale. Allora, qui ci sono un sacco di comandi. Questi comandi difficilmente rimarranno uguali nel tempo, quindi non ci serve impararli a memoria, imparare a memoria la loro posizione. Ci serve piuttosto riuscire a leggerli e interpretarli e quindi andare dove le cose sembrano più giuste per noi in quel momento. Allora, io voglio lavorare sulla pagina iniziale, profili, privacy, aspetto, barra laterale, start, home e nuove schede. Pagine iniziale, start, home, abbiamo parlato anche della casetta, secondo me è qui dentro. Leggendo questo titolo non è detto che io lo sappia e non è detto che sia qui dentro. Premo e vediamo che cosa dice. Ok, allora, all'avvio di Microsoft Edge apri nuova pagina scheda. No, è quello che mi fa attualmente e non voglio. Io voglio aprire questa pagina, google.it. Mi segna questo google.it probabilmente perché io sono già qui, ero già qui e potrei dire anche utilizza tutte le schede aperte. Lo facciamo tra poco. Quindi, apro questa pagina. Qui c'è scritto al plurale queste pagine. Va bene, apri queste. Perfetto. Non devo salvare, ormai non si salva più niente. Sono a posto. Chiudo tutto. A posto. Quando vado in Microsoft Edge adesso otterrò google. Eccomi qua. Passa Chrome, eccetera. Questo è un altro discorso. Sono qui e ho impostato la pagina iniziale. E a questo punto mi dico, ma sai che quando inizio a navigare io vado sempre nei soliti tre posti, ovvero google, il sito Associazione Maggiolina e che ne so, la posta elettronica. Allora, prepariamoci già lì. Facciamo in modo che quando io apro il mio browser io sia già lì. Come faccio? Aggiungo delle schede. Google è una pagina che mi piace, c'è già. Poi aggiungo la pagina del sito Associazione Maggiolina, quindi www.associazionemaggiolina.it va direttamente in home page perché se ne ricorda. Benissimo. Accetto i cookie e poi vado sulla mia posta elettronica. Quindi posta elettronica con Aruba nel mio caso webmail allora web mail Aruba ok, vediamo se ci va o se la trova Aruba Club Server questo webmail Aruba.it ok queste cose non è che me le invento le so perché le utilizzo tutti i giorni quindi la mail di Aruba la utilizzo tutti i giorni quindi so l'indirizzo eccetera qui dovrò mettere necessariamente la mail e la password potrei rimanere collegato ma di solito non voglio quindi non mi piace lasciare inserita la password della posta elettronica nel computer ma se volessi potrei farlo quindi Google Associazione Culturale Maggiolina e la webmail questa non mi serve questa era la ricerca che ho fatto in Google e la cancello quindi queste sono le mie tre pagine iniziali preferite quando inizio ad andare in internet che apro internet voglio vedere queste tre pagine potrei anche gestirne l'ordine mi dico ok dai primo posto per Aruba poi secondo posto per Associazione Maggiolina e terzo posto per Google ok e ora per fissare questa situazione faccio quello che ho fatto prima tre pallini impostazioni vediamo start home e nuove schede eccomi qua e dico utilizza tutte le schede aperte una due tre quindi premo qui sopra ed ecco che adesso ho webmail Aruba Associazione Culturale Maggiolina e Google nell'ordine in cui io le ho disposte questa scheda è quella delle impostazioni quella su cui stiamo lavorando e ovviamente non viene presa nel discorso perfetto non devo salvare niente chiudo con la X e sono a posto apro il mio browser eccolo qua Microsoft Edge e adesso si apre così come l'ho lasciato così come l'ho impostato attenzione non è giusto dire così come l'ho lasciato perché io adesso potrei navigare potrei fare mille altre cose ma quando tornerò ad aprirlo si apre ancora così quindi se la mia situazione nel momento di chiusura è diversa ho aperto cinque schede sto navigando su siti sportivi sto facendo altre cose chiudo quando riapro quello che ottengo è ancora questa situazione perché queste sono le mie pagine iniziali quello che ho impostato nei tre pallini per questo si viene a fare questo lavoro per avere una situazione confortevole nel momento di inizio di navigazione perfetto e qui ci siamo voglio impostare adesso la home page ovvero la pagina casa una pagina che io voglio raggiungere velocemente in qualsiasi momento ovunque io sia e solitamente come home page io tengo questa tengo la pagina di google è vero che ce l'ho qui ma se la chiudo perché ho fatto varie cose ho fatto ricerche eccetera devo tornare là non voglio chiudere e riaprire tutto mi serve il pulsante per tornare direttamente sulla home page sulla pagina del motore di ricerca di google quindi adesso facciamo questa impostazione per cui tre pallini impostazioni questo è un percorso che si fa sempre e torno su start home e nuove schede in questo caso è la voce home che mi interessa ma ovviamente io premo su questa voce è tutta unica non è che se premo su home allora regola la home page questa è un'unica voce si apre una scheda e qui dentro ci sarà anche il comando home allora la prima parte è dedicata all'avvio di microsoft edge quindi alla pagina iniziale alla pagina o alle pagine iniziali poi qui invece c'è il comando relativo al pulsante home alla famosa casetta allora innanzitutto la vado ad accendere eccola qua e quindi la casetta è apparsa e qui vado a scegliere quale sarà la mia pagina iniziale quindi io adesso qui devo scrivere un indirizzo internet che mi porti alla pagina che voglio utilizzare come iniziale e questo indirizzo internet ovviamente lo devo sapere allora facciamo associazione maggiolina per questo primo passaggio di prova www.associazionemaggiolina.it salvo in questo caso e adesso ovunque io sia sono qui su Aruba se premo la casetta vado sul sito associazione maggiolina perché la casetta adesso mi porta sempre a casa sempre al sito che io ho scelto come preferito per la navigazione mettiamo che io voglio andare nei podcast quindi diciamo che a me si interessa il sito associazione maggiolina ma mi interessano i podcast i corsi da ascoltare eccetera eccetera quindi questo è l'indirizzo io lo voglio riportare là non sono sicuro di ricordarmelo lo seleziono eccolo qua ci premo sopra col tasto destro dico copia un click col sinistro e ho acquisito l'indirizzo adesso qui chiudiamo così facciamo tutto da capo torno nei tre pallini torno in impostazioni torno sulla scheda start home nuove schede scelgo la voce pulsante home vado qui dove ci va l'indirizzo cancello questo indirizzo che non mi va più bene faccio tasto destro del mouse dico incolla e qui appare l'indirizzo della pagina che stavo vedendo quindi adesso salvo e la mia pagina iniziale sarà quella di associazione maggiolina punto it podcast e la mia pagina home sarà quella di associazione maggiolina punto it podcast proviamo tutto chiudo con la x fuori da tutto apro microsoft edge eccomi qua microsoft edge ora mi mostra le pagine iniziali che ho scelto quindi aruba quindi associazione maggiolina eccola che arriva quindi google a posto attenzione se mi piacciono 50 pagine e le metto tutte qua come pagina iniziale all'apertura di edge il mio computer impiegherà del tempo perché le deve scaricare tutte queste pagine quindi di solito se ne tiene una due tre dipende da come usi il computer ma senza esagerare altrimenti il computer rallenta ok in qualsiasi pagina io sia mi metto qui su aruba se voglio andare a vedere i podcast di associazione maggiolina premo sulla casetta e la casetta mi porta a casa mi porta in quell'unica pagina che ho scelto come casa mia come pagina preferita in assoluto e quindi raggiungo i podcast di associazione culturale maggiolina ed eccomi qua di solito nella realtà io tengo come pagina casetta sempre google perché quando faccio una ricerca la faccio da lì e quindi mi piace avere la possibilità di raggiungere la pagina di google molto velocemente non è l'unico sistema abbiamo detto però il tasto casetta ha un valore speciale per me tra virgolette e quindi l'ho imposto di conseguenza tre pallini impostazioni scheda start home e nuove schede premo qui faccio scorrere ecco qua quindi qui io vado a scrivere www.google.it htps quelle cose lì le metterà lui in seguito mi basta mettere l'indirizzo dal www ok salvo a posto posso chiudere qui e adesso la mia casetta funziona diversamente così come l'ho impostata se premo sulla casetta torno alla pagina di google ed eccomi qua motore di ricerca google pagina ufficiale tra virgolette e sono pronto quindi ho fatto due impostazioni del mio browser ovvero le pagine iniziali e la pagina casetta la home page benissimo l'ultima cosa che vado a fare è quella di sincronizzare il mio profilo di navigazione in internet con il mio account microsoft attenzione qui siamo in microsoft edge quindi mondo microsoft non mondo google anche se la pagina che sto vedendo è google se io voglio il mio browser sincronizzato anche su altri computer dove ho intenzione di utilizzare edge devo inserire qui l'account microsoft non quello google sono due cose diverse perché sono due aziende diverse nel mio caso il mio computer sa già che il mio account microsoft è as maggiolina chiocciola out punto it e se ne avessi più di uno potrei andare ad aggiungerli qui sotto cerchiamo di non averne troppi se te ne servono due due ma solo perché sai che ti servono diversamente non continuare a creare account perché più ne crei e più difficoltai nella gestione del computer quindi questo va bene devo semplicemente accedere per sincronizzare i dati con eventuali altri computer quindi premo su accedi ok mi pareva di aver già premuto vediamo se arriva o se succede qualcosa quindi adesso ho premuto due volte speriamo di non aver fatto pasticci attendiamo non sembra succedere niente infatti si è chiuso tutto ok riproviamo dai apro microsoft edge qui dice vuoi ripristinare vuoi no lasciami stare vai alle pagine di avvio ricominciamo da capo ok premo qui sul profilo as maggiolina outlook.it ok impostato accedi per sincronizzare i dati premo perfetto allora vediamo puoi iniziare a navigare mentre viene effettuata questa configurazione gestisci il profilo sfoglia eccetera tutto a posto non mi ha chiesto nessuna password perché da qualche parte l'ha già recuperata la password o il pin del mio account microsoft in questo caso perché io lo stavo già usando e quindi evidentemente da qualche parte la ricorda e quindi qui è apparso direttamente il logo del mio account l'immagine del mio account e sono a posto se ti chiede la password o se ti chiede il pin tu metti la password e metti il pin adesso tutti i cambiamenti che io farò all'interno del mio browser quindi se cambio la home page se cambio le pagine iniziali eccetera se aggiungo dei preferiti cose che faremo più avanti in questo computer su questo browser verranno riportati anche in altri computer nei quali io dovessi andare a sincronizzare l'account microsoft di questo singolo computer non avverrà perché voglio tenere ogni mio computer ben distinto l'uno dall'altro ma se dovessi invece cambiare idea la sincronizzazione mi aiuterà ad avere su ogni computer lo stesso aspetto del browser edge che ho in questo e viceversa perché se poi usando un altro faccio delle modifiche vengono sincronizzate anche qui e anche questo computer assume lo stesso aspetto dico non avverrà perché io utilizzo sempre Chrome per navigare quindi ho la sincronizzazione col mio account Google su computer diversi e la cosa funziona allo stesso modo e quindi preferendo Chrome la cosa nel mio caso funziona su Chrome posso impostarla anche qui su Edge e quindi abbiamo visto come fare e l'ho impostata ma so che non la userò bene mi auguro che il video ti sia piaciuto qui sotto trovi il pollice in su per dire che ti è piaciuto trovi il pulsante iscriviti per iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto e trovi il pulsante abbonati per abbonarti al canale YouTube Associazione Culturale Maggiolina e vedere anche i video della serie speciale riservata agli abbonati ci vediamo presto ciao grazie a tutti